Musica Un cordiale saluto, buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV L'informazione parte al mattino presto alle 7.30 sul canale 17 in diretta Con la rassegna stampa, occhio ai giornali Tra un istante, prima il santo di oggi, lo vediamo subito Anzi è una santa perché si tratta della prima santa d'America, dell'America Latina Che morì nel 1617, ovvero Santa Rosa da Lima, morta nel 1617 Diceo divenendo popolare però anche nel resto d'Europa Il sole è sorto alle 6.21 e tramonterà alle 8 in punto questa sera Il sole, il sole splende su tutta la regione Marche Vedete, a parte i Sibillini, la parte meridionale della regione Che avrà ancora qualche residuo Qualche residuo e instabilità Avremo qualche isolato piovasco nelle zone interne meridionali Per il resto invece oggi sarà cielo sereno, poco nuvoloso Anche se questo probabilmente avrà nel poveriggio Se Irene Guidi ci fa vedere l'immagine della telecamera del Pincio Tanto per intanto ci vedete Questa è l'immagine indiretta Con il traffico in tempo reale Alla rotatoria davanti a Porta Maggiore Però il tempo in realtà ancora risente un po' Delle nuvole che sono presenti Sulla provincia di Piesa Urbino Nuvole che dovranno abbandonare il nostro cielo E lasciare spazio appunto al sole Domani mercoledì 24 di agosto Cielo sereno con temperature in aumento Stessa cosa per la giornata di giovedì 25 agosto Avremo una settimana davvero di sole L'estate non ci abbandonerà Anzi resterà ancora piuttosto a lungo E adesso andiamo a vedere i giornali Cominciamo dal Corriere Adriatico La cultura fa volare il turismo Questa è l'edizione di Pesaro Che trovate in edicola questa mattina La cultura fa volare il turismo E il museo diventa un'azienda A Urbino, Palazzo Ducale Incassi e ingressi record Mentre gli alberghi si sono riempiti Grazie al Rossini Opera Festival La cronaca a centro pagina Un algerino che deve scontare altri 20 anni Per armi e stupro Ha picchiato un agente Un agente in carcere L'aggressione è avvenuto a Villa Fastigi Pesaro Il sindacato parla dell'aggressore Come di un fondamentalista La pagina di Fano invece Del Corriere Adriatico Andiamo a vedere subito In primo piano La fiera di San Bartolomeo Che comincia domani Ambulanti in arrivo da Mezza Italia La novità del mercatino dei ragazzi Da domani a venerdì C'è la fiera di San Bartolomeo La tradizionale fiera Che si svolge tutti gli anni a Sassonia Ci sarà spazio per 235 venditori 235 ambulanti Attesi occasioni e curiosità commerciali Come sempre ci sarà l'animazione Anche per il pubblico Sono appunto tante 235 le bancarelle Che si potranno visitare In questi tre giorni Poi parla l'assessore ai servizi sociali Marina Barnesi Che spiega un po' come è la situazione A proposito di quella storia Dei due Della coppia Che per diverso tempo Ha dormito All'interno di una macchina Dentro il parcheggio Dell'ex Caserma Paolini L'assessore dice Non abbiamo abbandonato La coppia Cesaroni L'assessore spiega Che hanno rifiutato l'alloggio Nella casa di Don Tonucci Era un alloggio temporaneo Perché poi sarebbero Era una soluzione Tra l'altro anche gradita Sembra l'inizio dei Cesaroni Poi Hanno cambiato idea E se ne sono andati In realtà adesso C'è questa soluzione Credo E spero definitiva Dove il proprietario Di un appartamento privato Sistemerà un po' Le varie forniture Di gas, luce ed acqua Faranno il contratto E quindi dovrebbero Entrare In un appartamento Di bell'occhi Si tuffa Fanno si tuffa Nel Medioevo Torna il palio Delle contrade Per tre giorni Una rievocazione E un torneo A Ponte Metauro Il comune riconosce Il rigore Della ricostruzione Dell'età di Pandolfo III Malatesta Il clou per la Pandolfaccia E la sfida Tra San Sebastiano Assunta Borgomozzo E La Croce Vedete i figuranti Con il sindaco Sere Il presidente Della Pandolfaccia Frattesi Con l'assessore Marcheggiani Insomma un evento Che sta partendo Sta prendendo Sempre di più Chiaramente Non è A livelli Della Fano di Cesare A livello Soprattutto Per quanto riguarda Il coinvolgimento Dell'intera città Però insomma Piano piano Si sta facendo Spazio Si sta facendo Largo Il programma Prevede Per venerdì 26 agosto Alle ore 21 e 30 La conferenza Al santuario Del Ponte Metauro Dal titolo I bianchi E la misericordia Questo è uno Soltanto uno Degli appuntamenti Andiamo adesso Sulle altre pagine Del Corriere Adriatico Dicevamo A Pesaro L'oro Del Rossini Opera Festival Per hotel E ristoranti L'hotel Veramente Si sono riempiti Gli alberghi Lo stesso Il presidente Dell'APA È soddisfatto Mentre in queste immagini C'è il signore Del Palazzo Ducale Di Urbino Peter Aufreiter Direttore Della Galleria Nazionale Delle Marche Che per Confcommercio È l'unico appuntamento Di rilievo Rispetto alle sagre Paesane Che secondo noi Però non vanno Assolutamente denigrate Ognuno Ha il suo pubblico Tutte le iniziative Hanno il loro target Se Recentemente Abbiamo detto Che Questi erano dati Ufficiali Adesso non ricordo Di quale associazione Di categoria nazionale Però 8 italiani Su 10 Partecipano Durante l'estate Alle sagre Quindi Non vanno denigrate Non vanno abiasimate Hanno il loro pubblico E hanno il loro Giro d'affare Quindi Va bene il ROF Vanno bene anche Le sagre paesane E perché no La cronaca Rischiano di annegare Così ho salvato Padre e figlio Parla il bagnino Di salvataggio Matteo Menconi Siamo sempre a Pesaro Il bagnino Deciso nel portare Riva l'uomo E il bimbo Di 6 anni Però attenzione Guardate un po' Ieri che mare c'era Guardate un po' Non era certamente Calma piatta Non era un mare Come una tavola Tutt'altro Infatti dice il bagnino Avevamo esposto La bandiera rossa Ma spesso i bagnanti La sottovalutano E quindi mettono A rischio La propria vita E non solo La propria vita Anche quella del bagnino Chiaramente Di quelli che Intendono poi magari Mettersi a salvare Persone in difficoltà Detenuto islamico Picchia un agente In carcere Abbiamo detto Nel carcere di Pesaro Coglie di sorpreso Il poliziotto Che stava aprendo la cella E gli rompe il naso L'Algerino è noto Per gli atteggiamenti Violenti legati Alla desesperata Osservanza Dei precetti Religiosi Deve scontare Una lunga condanna Anche per violenza carnale La fine della pena Per lui è nel 2036 Poi sarà Estradato In Francia E ancora La dignità Passa Anche dal reddito A Pesaro Scatta un progetto Pilota Per sostenere le nuove Povertà Gli enti locali E le parti sociali Si mettono insieme Nella logica Di fare sistema Mettere da parte Un po' di soldi E aiutare Le persone Le famiglie Che ne hanno più bisogno Nella pagina Del Corriere Adriatico Delle Marche Siete tra i 200 insegnanti Di sostegno Che vengono trasferiti Insomma C'è un articolo Tutto per voi Prof trasferiti Vittime dell'algoritmo 200 insegnanti Della primaria Ieri davanti all'ufficio Scolastico regionale Per protestare Contro lo spostamento Nelle regioni del nord Che è stato deciso Dal ministero L'odissea dei prigionieri Di via Mazzini Sconto sulla Tari Come risarcimento Siamo sempre a Pesori Comercianti Nostaggio del cantiere Se l'impresa ha sbagliato Paghi E il comune Ci deve sostenere Dicono adesso I residenti Ancora Santa Veneranda Avrà quel parco Che aspetta da 20 anni Quasi pronto il progetto Ma va aperta una trattativa Tra la diocesi E il comune Poi un po' di gossip Sulla pagina di Pesaro Sport Il gossip riguarda Federica Pellegrini E Filippo Magnini Tutti e due Visti dal loro allenatore Parla delle nozze Anzi non dice nulla Non ne so nulla E non chiedo nulla Il pesarese Matteo Giunta Lo facciamo vedere sotto Nella fotografia Eccolo qua Il pesarese Matteo Giunta Parla del futuro Anche sportivo Della coppia Che però è ancora Tutto da decifrare In pochi hanno abbassato I propri tempi Parlando Dal punto di vista agonistico Forse gli orari Hanno dato Dei problemi Il metauro Il fiume Metauro È in agonia 40 anni di errori Parla il geologo Giampaolo Baldelli Che dice La pulizia degli invasi Non basta È soltanto Un palliativo L'ecosistema fluviale Non ha acqua Sufficienza Per le due città costiere Vale dire per Pesaro E Fano E poi per chi vuole Un po' di storia Di questo fiume Fiume che ce l'abbiamo Un po' sotto gli occhi Tutti i giorni Il suo nome Deriva dalla semplice fusione Dei nomi Meta E Auro Fra gli affluenti Più importanti C'è il Candigliano Noto per il suo passaggio Nella famosa Gola Del Furlo La Fogliense Siamo sulla pagina di Urbino La Fogliense All'Anas Pressing Sud del Rio Biancani dice Restituiamo le ex strade statali Ma puntiamo anche Alla provinciale E adesso Andiamo a vedere La pagina Della Valle del Cesare Del Corriere Adriatico In campo Tre cittadine unite Nel sostegno dell'Avis Primo torneo Della amicizia di calcio Ingresso offerta A favore della Proloco Siamo a Frontone E poi Voragine Orciano La voragine Che è ancora lì Quella strada Che non c'è più Una voragine stradale Da chiudere Gara d'appalta Già in ritardo Doveva essere bandita Per la metà di agosto Il sindaco dice Rispetteremo I tempi La data del crollo È il 2 ottobre Del 2015 All'ingresso di Orciano Di Pesero Contra l'altro Anche una tragedia Sfiorata Non so se ricordate Quello che successe Quella sera Una ragazza Si era accorta Di un lampione Che stava andando Giù Sulla sua Sulla parte Destra o sinistra Adesso non ricordo Il senso di marcia Però ecco Si accorge che questo lampione Crolla giù Capisce che c'è qualcosa Che non va Prima crolla Metà carreggiata Il tempo di fermarsi Di fermare anche Le altre macchine Poco prima Stava passando L'ultima corsa Di un autobus Di linea Sarebbe stata Veramente Una tragedia Insomma Per fortuna Poi non si è fatto male Nessuno Ma la frana È ancora lì E poi È questione di Politica E tutto il resto L'avevamo detto Però quella volta Ci vorrà del tempo Conoscendo come vanno Le cose in Italia Si sente male Siamo sulla cronaca Di Senigallia Si sente male Muore per strada Dopo aver chiamato L'ambulanza Esce di casa Per andare incontro Ai soccorritori Ma un infarto Non da scampo A Roberto Sanna 57 anni Residente In via delle Genziane A Senigallia Vandali in azione Invece alla fiera Lagati i bagni Dello stadio Utilizzati per la fiera Campionaria Smontati i sifoni Automobile Danneggiata Nella piazza Dietro il municipio E poi vengono segnalati Anche schiamazzi Insomma Questo è Adesso Chiudiamo la nostra La segna stampa Con l'altro quotidiano Invece Che ha l'inserto Pesarese Il resto del Carlino Che in prima pagina Con la fotonotizia Parla anche qui Parla anche lui Del turismo Con gli operatori Che sono soddisfatti Ma non esaltati Lontani dal ritorno Alle presenze E ai fatturati Del 2013 Però insomma Non ci si lamenta A Pesaro Bene non benissimo Questo è il titolo Poi Sotto la testata Si è sposata Valentina Con Alan Niente bombonieri Meglio un aiuto Al canile comunale Valentina e le sue Nozze speciali Regalateci L'adozione Di un cane Evidentemente Animalista Convinta Poi Vive nel buio E picchia Una guardia carceraria Un detenuto fondamentalista Da trasferire Ma per il DAP Non è Un detenuto Radicalizzato E' morto Gabriele Petromilli Andiamo a Mondolfo Molti lo ricorderanno Lo avranno conosciuto Aveva 68 anni E si occupava anche di UFO Il filosofo ed esperto di templari Ed esoterismo E poi a Cartoceto A Cartoceto Inizia Music Square Una di quelle giornate Una di quelle manifestazioni Che vengono dedicate alla musica Ed è un sempre Cresce sempre di più Come Come Evento E questa fotografia Si riferisce All'edizione del 2015 Con la piazza Giovanni Paolo II A Lucrezia Completamente Piena di gente Ogni sera Dalle 19.30 Spettacoli di danza Intrattenimenti E stand Il tutto comincia Domani Appunto A Lucrezia E c'è anche spazio Per la fiera di San Bartolomeo A Fano Eccola qui Da domani a venerdì 230 bancarelle Affari dalle 7 del mattino A mezzanotte Gonfiabili E animazione Dedicata ai bambini Poi scambi di giochi E anche libri Con appunto Qualche novità Che è stata annunciata Dall'assessore Carla Cecchetelli E poi Per il palio Delle contrade La città Si divide in quattro La città di Fano Si divide in quattro Da venerdì a domenica Alla pinetta Di Ponte Metauro C'è questa rievocazione storica Con le gare E poi C'è il bilancio Del paese dei balocchi Che è chiuso I battenti Domenica Un bilancio Della manifestazione Che ha visto Addirittura 25 mila persone Nelle varie serate L'ideatore Michele Brocchini Dice Parla di una partecipazione Di Donciotti Che ha portato persone Mai viste prima Eventi a raffica Parla la Proloco Il presidente Etienne Lucarelli Sull'estate Eventi a raffica Altro che Fa una valutazione Di quella che è stata L'estate C'è stato un turbinio Di eventi Dice Etienne Lucarelli Si è iniziato Con in giro per fan Con gli eventi Scusate Campagnoli Poi in giro per fan La notte dei desideri Il paese dei balocchi Ora Anche il palio Delle contrade Di Ponte Metauro La pagina di fan La pagina di fan Del Corriere Del resto del carino Scusate La cronaca Camion in retromarcia In veste Una mamma E le sue due bambine In seguito E bloccato dal padre Una tragedia sfiorata A Ponte Sasso Ieri mattina Intorno alle 10.30 All'altezza dell'hotel Ruing È una donna Di 28 anni Che appunto Aveva questo passeggino Con le piccole Di due mesi E di quattro anni Scraventato A terra E sotto Pescano Banconote Dal distributore Con una canna E con un adesivo Attaccato Ladri in azione Al distributore Della ESSO Di Thomas Gabbianelli In via Einstein A Bellocchi Bottino 500 euro Sono state forzate Con un piede di porco Le feritoie Delle due colonnine Della stazione Sales Service Siamo in ritardo Allora Chiudiamo con L'ultima pagina Del resto del carino Pian del bruscolo C'è una donna Coinvolta Di 48 anni In un grave Incidente stradale Schianto Grave una scuterista Sulla provinciale 38 In località Pirano Una strada che porta In Romagna La donna di 48 anni Di Fano È caduta Dopo l'urto Con una Smart E residente a Fano Appunto Mentre In Lese Le due occupanti Della 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 Smart La festa Della tagliatella È stata un successo Se avete comprato i biglietti Qui ci sono anche Le serie vincenti L'estrazione De la lotteria Collegata al decimo anno Della Sagra È tutto Grazie per aver seguito La nostra Segnastà Pochi giornali Torna domani mattina Salutiamo anche tutti quelli Che ci seguono in replica E anche a un demanda Sul nostro sito internet Attraverso internet Youtube Da tutto il mondo Grazie I fanesi Naturalmente Che sono di tutto il mondo Non è che ci guardano Di tutto il mondo Però Ci sono tanti fanesi Sparsi in tutto il mondo E allora li salutiamo Grazie per averci seguito Stasera alle 20.30 Ci occhio alla notizia Buongiorno Grazie a tutti